Eccoci buonasera, serata come intuite casalinga, non ho certo snobbato l'impegno perché ho sofferto come un leone in gabbia, ma insomma serata, chiamiamola così, di rarefazione, di precauzione, in ogni caso va tutto benissimo, tranquilli. Veniamo noi, veniamo alle cose più importanti, cioè al Milan, Milan che continua a vincere. Oggi non è stata una partita esaltante, io li fido sempre delle partite in cui ci sono tanti giocatori che giocano insieme per la prima volta. E poi senza Cialanoglu lo vedete, la squadra proprio nei movimenti, nella fluidità in campo è un po' più sincopata, un po' meno ricucita, un po' più legnosa, quindi ci sono questi due aspetti che hanno, diciamo, pesato sulla prestazione. Però alla fine se il risultato arriva non è mai un caso, vuol dire che come gruppo è un gruppo sano, vuol dire che come identità di squadra è un'identità pura, chiara, cristallina, che si esprime declinandola anche con giocatori diversi fra loro. I primi dieci minuti abbiamo un po' sofferto, Sandro Tornani ha fatto un po' di fatica ad entrare in partita, ma poi si è assestato nel corso della gara. Devo dirvi che mi è piaciuto molto Diogo Danotte, mi è piaciuto molto per disinvoltura nel tocco, non ha fatto cose esaltanti, nel secondo tempo si è messo dietro sulla fase difensiva e ha tenuto bene il punto. Abbiamo sofferto un po' quando sono usciti insieme che sia Ibraimovic. È chiaro che togli con la stessa sostituzione nel 65esimo, ho guardato il minuto perché ho avuto un leggero fremito, lo stesso che c'è stato adesso sullo smartphone, e togliere nello stesso momento tutta quell'autorevolezza, tutti quei chili, io penso che Lennon abbia tirato un sospiro di sollievo. E infatti il Celtic ha preso fiducia proprio in quel momento, quando sono usciti i due leoni, che non erano loro in gabbia ma buon per loro erano in campo. E senza che sia Ibra abbiamo preso questo gol e il Celtic ha preso un po' corpo. Però poi sono entrati molto bene Salemeckers e Uge. Sono entrati veramente molto bene, Salemeckers l'ho gradito tantissimo, ci ha alzati subito, ha rimesso adrenalina nel nostro modo di stare in campo, e devo dire che il nazionale belga anche oggi ha dimostrato davvero di essere uno del gruppo. E poi ne è piaciuto anche il modo in cui ha fatto l'assist a Uge, Uge se n'è andato, c'era Duffy, il centralone scozzese che ha provato a strattonarlo, ma Uge non si è spostato per nulla e ha segnato quel gol che stava per segnare, vi ricorderete contro di noi quel Bode Glimt, stava per far segnare contro di noi quel Bode Glimt nel finale di gara, lo ha tenuto per la partita di Glasgow. Così come Krunic poteva fare il 3-1 nel derby, non lo ha fatto e ha tenuto il gol per Glasgow. Oggi dicevo all'inizio, sulla prestazione ha pesato un po' il fatto che era una formazione inedita, il fatto che comunque a fare taglio e cucito non ci fosse Cialanoglu, e anche che abbiamo giocato con un modulo diverso, abbiamo giocato con il 4-3-3 che era un modulo che non facevamo da tempo, alla fine era stato presentato dai media italiani come un 4-2-3-1 con Krunic largo a sinistra, abbiamo visto che abbiamo fatto sostanzialmente un 4-3-3 con Castieco e Diaz un po' larghi attorno a Ibra e con Krunic che veniva più sul centro campo piuttosto che sulla fascia sinistra, per cui insomma un po' di novità hanno fatto in modo che la nostra prestazione non fosse scintillante, diciamo non fosse spettacolare. Però resta il fatto insomma che alla fine si è vinto 3-1 su un campo importante, noi molto rimaneggiati perché pensate negli ultimi 20 minuti andavamo fuori contemporaneamente, che si Ibra, Cialanoglu e Rebic, perché Rebic è un assente importante in questa squadra. Vedo che ad altre squadre vengono forniti grandi alibi, vengono forniti grandi scialuppi di salvataggio, non bisogna giudicarle con le assenze le altre squadre. Le nostre invece anche con le assenze si giudicano, la nostra non c'è problema, si giudica anche e soprattutto quando ci sono tanti assenti. Nel finale Leao ha fatto la prima punta e lì si è visto come da prima punta senza Ibra al posto di Ibra Rafa tenga francamente un po' pochi palloni e dia poco peso e poco spessore alla nostra palla, la nostra palla lunga. Ecco, fa fatica, ha preso un pallone su un calcio d'angolo avversario sul 2-1 quando eravamo attorno al novantesimo, di testa alla nostra area, però là davanti tu avevi una montagna in mare come Ibra e poi arriva Leao che è un giocatore diverso, un'età diversa, un'esperienza diversa, quindi è chiaro che un po' di differenza si è sentita. Ho parlato in passando di Tonali in questa chiacchierata post-Celtic-Milan. Tonali ha un po' sofferto i primi dieci minuti, ha un po' sofferto, l'abbiamo visto, ha perso due tre palloni, ha preso qualche imbardata, ha preso qualche infilata, poi però si è messo in mezzo al campo. Ecco, è chiaro, lui, il Brescia, era una squadra che si era cucita addosso, ragazzo. Al Milan è diverso, diversi gli impegni, diverso il modo di giocare, il Milan ha un suo modo di giocare. Mentre il Brescia era davvero Tonali dipendente e Sandro se l'era cucito addosso, qui invece deve crescere lui insieme alla squadra, non deve guidarla come faceva l'anno scorso con il Brescia. E quindi è una stagione diversa, un approccio diverso, un film diverso, una situazione diversa. Però mi sembra che Cammin facendo sia migliorato, io devo dirvi che il Tonali che mi è piaciuto di più fino a questo momento, in questa stagione, è stato quello del finale dei tempi regolamentari, dei tempi supplementari di Vila do Condin, in Portogallo, dove ha fatto veramente una grossa partita. Però, insomma, mi ha anche fatto piacere che Stefano Pioli l'abbia lasciato in campo, quando è entrato Ben Nasser è uscito, che sì, è rimasto in campo Sandro Tonali, perché è tutta esperienza, perché è tutto minutaggio, perché è tutta esperienza importante per il futuro. E poi, a un certo punto, durante la partita, ho sentito proprio anche l'audio originale dal campo, il bravo Sandro, bravo Sandro, Sandro di qui, Sandro di là, vai di qui, vai di là. Era proprio quasi un allenatore, il nostro Stefano Pioli. Non dico a telecomandare Sandro Tonali, però a dare parecchie indicazioni al ragazzo, perché è un progetto importante, un progetto importante. Sandro Tonali, giustamente Stefano Pioli, vi si dedica nell'interesse del ragazzo, nell'interesse della squadra, nell'interesse dell'investimento da parte della società. Ho seguito con attenzione Ayer, mi era piaciuto tanto nei primi dieci minuti Christopher Ayer, il difensore centrale norvegese loro. Poi però, francamente, l'ho trovato, ecco, chiaro, andrebbe visto in un'altra squadra, in un altro contesto, era dappertutto, il difensore centrale deve fare innanzitutto il difensore centrale. Non può essere dappertutto, perché sennò poi diventa poco punto di riferimento e ha preso il gol da Krunic. Quindi, insomma, così, i primi dieci minuti avevo sgranato gli occhi e mi era già piaciuto Ayer, pur nella partita persa, nell'all firm perso dal Celtic, il derby di Glasgow contro i Rangers sabato, lui mi era piaciuto. Oggi, francamente, devo dire, alla lunga, un po' meno. Avete visto l'Axalt? Io credo che l'Axalt sia stato il migliore in campo del Celtic. A un certo punto sembrava stiliche contro Riali nella finale mondiale, per quanto riguarda i falli su Castieco. Per carità, noi magari abbiamo avuto, insomma, l'Axalt non ha mai sentito la fiducia vera nostra, del Milan, dell'allenatore, per carità. Però, ecco, non dico che stasera abbia fatto una parita polemica, però diciamo che si è applicato parecchio. Ecco, io così, francamente, tirato a lucido con la nostra maglia, non l'avevo mai visto. Oggi ha fatto, devo dire, una grande prestazione. Abbiamo dato un po' di riposo in ogni caso, abbiamo sofferto un po' però quella mezz'ora di riposo che si e i Braimovic per la Roma servivano. Milan-Roma sarà durissima lunedì, la Roma va a tutto gli svizzeri, la Roma in serie positiva. Noi adesso vedremo, se recupereremo qualcuno, vedremo come saremo. Dovremmo far leva molto sul gruppo per venire a capo della parita di lunedì sera, perché la Roma, partita con lo 0-3 Tavolino col Verona, poi ha fatto solo parite convincenti, avrebbe meritato anche di vincere con la Juventus. Quindi un po' di riposo anche a Ben Nasser l'abbiamo dato, a Calabria l'abbiamo dato. Insomma, un po' dei nostri ragazzi oggi hanno riposato e poi toccherà naturalmente a Stefano Pioli tirare le somme, valutare e decidere quale tipo di formazione mettere in campo contro la Roma lunedì sera dove ci aspetta un'altra partita tostissima di questo nostro inizio di stagione. La squadra continua a vincere anche quando magari non crea tantissime occasioni da gol come questa sera, però è sempre un segnale, è sempre un segnale, è sempre una tendenza di una squadra che in un modo o nell'altro, brillante o meno brillante, la strada per arrivare al risultato la trova sempre. Vuol dire che ha fondamenta, vuol dire che ha solidità, vuol dire che ha corpo, vuol dire che ha spessore, vuol dire che ha anima e questa è la condizio sine qua non per fare una stagione importante. Adesso dobbiamo tenere botta contro la Roma e poi recuperare i giocatori per il ciclo molto duro che ci aspetta di qui alla prossima sosta di metà novembre. Buonasera a tutti.